C'è ancora il recupero della Exnecchi al centro del dibattito del Consiglio Comunale del Capoluogo. Nel corso dell'ultima seduta al Mezzabarba erano stati i proprietari dell'area, i protagonisti del dibattito. Una presenza fortemente caldeggiata dall'opposizione di centrosinistra per fare chiarezza sul delicato tema della bonifica che tanto sta facendo discutere in città. E sarà ancora una volta il Partito Democratico a incalzare il Comune sull'argomento. I consiglieri comunali DEM, Michele Lissi e Giuliano Ruffinazzi hanno presentato una instant question in vista della seduta di giovedì 25 novembre. Nei giorni scorsi è emerso infatti il progetto di un nuovo ponte dallo svincolo della tangenziale verso la Exnecchi, un'opera che la proprietà dell'area intende realizzare per garantire un miglior collegamento. Ma a poche centinaia di metri di distanza l'amministrazione del Mezzabarba sta lavorando al nuovo ponte di via Ghisoni. Insomma due strutture a circa 500 metri di distanza si sarebbero potuti evitare secondo il Partito Democratico. Opposizione che attraverso la instant question chiede spiegazioni al settore dei lavori pubblici. Gli uffici erano al corrente di questo progetto alternativo. Quali sono state le interlocuzioni con gli operatori immobiliari? Dubbi che dovranno essere chiariti nel corso della prossima seduta.